Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ancora una volta contento di potervi incontrare e potervi vedere. È sempre bello quanto ci si incontra e ci si vede. Ernesto ha usato una bellissima immagine, i vassi comunicanti. A parte che mi ha fatto in mente di quando si andava a scuola, allora lì ce lo insegnavano, no? Vi ricordate? Sì, le scienze. Ed è bello proprio l'immagine di questi vasi che comunicano l'uno con l'altro. Chiaramente nessuno dei vasi però possiede ciò che comunica. Nessuno dei vasi può dire è mio ciò che sta comunicando, perché il primo vaso l'ha ricevuto e poi lo dona agli altri. Direbbe San Paolo, io vi ho trasmesso ciò che a mio volto ho ricevuto. E dice proprio questa frase, proprio in riferimento al momento centrale dell'essere di Cicristiano, la celebrazione dell'Eguaristia. Anzi, o meglio, nel riferimento fondamentale all'essere cristiani, la morte e la risurrezione di Gesù. Perché dice, ho ricevuto ciò che vi ho trasmesso, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture ed è risorto secondo le scritture. Quindi questo l'ho ricevuto e questo lo trasmette. Ed è bello perché anche noi questo abbiamo ricevuto e anche questo noi lo trasmettiamo. Potremmo correre il rischio alla tentazione, è sempre quella tra l'altro, adesso proprio l'ascolteremo proprio con Filippo, che c'è questa tentazione, che a un certo punto questa comunicazione potrebbe interrompersi per svariati motivi. Purtroppo quando poi si interrompe questa comunicazione avviene un cortocircuito. E quindi c'è qualcosa che poi si blocca. E chiediamo, già Don Ernesto l'ha detto, di chiedere al Signore veramente questa grazia. Di non essere mai un motivo affinché possa bloccarsi poi per causa nostra. Questa cosa che deve essere continuata a comunicarsi. Vi ricordate anche quando noi all'inizio parlavamo delle quare esterni incontri, proprio questo dicevamo, no, la comunicazione, Dio che si comunica a noi, è meraviglioso, è stupendo. Provate a pensare, due persone che si amano, l'uno comunica all'altro il proprio amore e l'altro ricevendo la comunicazione dell'amato o dell'amata trova senso alla sua vita. La vita al di fuori dell'amore non ha senso. E l'amore vero, l'amore pieno, è la donazione di se stessi. Don Ernesto lo chiamava il pane, quello che adesso noi vedremo in questo brano di questa sera, il pane che dice un bisogno, ecco il bisogno proprio che tutti quanti portiamo dentro. Un bisogno di essere saziati per il pane materiale, ma un bisogno di senso alla nostra esistenza. Don Ernesto lo richiamava e Gesù poi lo dice, ripeto, nel brano che abbiamo poi sul foglietto, attenzione al pane materiale, vedete anche il pane materiale che sazia certamente la nostra pancia, il nostro stomaco, però anche quello è segno di qualcosa di diverso. Noi non viviamo per mangiare. Il pane però dice qualcosa, tanto è vero che nel Padre Nostro noi lo chiediamo, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ed è bello, interessante, e dobbiamo chiedercelo, qual è quel pane quotidiano che chiediamo ogni giorno nel Padre Nostro? Solo ed unicamente quello che mettiamo sulla tavola, solo quello. O quel pane quotidiano che chiediamo e anche qualche altra cosa. Bene, riprendiamo il nostro cammino di conoscenze e di comunicazione che il Signore fa di se stesso a noi. E siamo evidenti in questi incontri 15 giorni fa e adesso siamo nel tempo pasquale, quindi questo non lo possiamo dimenticare. Già dicemmo la volta scorsa, lo ripetiamo e ripetiamolo sempre, ricordiamolo che i testi che noi abbiamo in mano, i testi dei Vangeli, sono testi scritti dopo la Pasqua. Quindi anche se nel testo si parla prima della Pasqua, però l'Evangelista, quando scrive, ha già nei suoi occhi la Pasqua che si è compiuta. Pensate, l'Evangelista Giovanni, il brano che vediamo anche questa sera, scrive intorno all'anno 100, la Pasqua l'anno 30, quindi sono passati 70 anni quando Giovanni scrive questo Vangelo. E quindi anche l'episodio su quale rifletteremo questa sera è stato scritto 70 anni dopo che questo episodio poi si è realizzato. Quindi capite, già l'Evangelista ha fatto una sua interpretazione di questo brano. E già lo dicemmo, non lo dimenticate, che ogni evangelista scrive per una sua comunità. Quindi sta rispondendo a qualcosa che la comunità sua, in modo particolare, sta vivendo. Come ad esempio i parruci, come Don Ernesto e Don Antonio, anche nei loro interventi, in una comunicazione, nel progetto pastorale, anche nelle omelie, come non è che fanno un'omelia in astratto oppure generale. C'è sempre un riferimento alla propria comunità nella quale vivono. Quindi sarà diversa, ad esempio, anche se dici, vabbè, il testo dell'Evangelo, quello è. Però nel momento in cui bisogna fare delle sottolineature, e chiaramente si fanno partendo dalla comunità nella quale si vive. E capite anche che la sottolineatura, la sfumatura è diversa se a una messa partecipano i bambini, se partecipano gli adulti. Quindi Giovanni, teniamo presente questo, Giovanni mentre scrive questo Vangelo, e quindi di una comunità ben presente, che sta sotto i suoi occhi. È un episodio che noi conosciamo, l'episodio è chiamato La moltiplicazione dei pani. La Bibbia così, di Gerusalemme così, dà il titolo. Però adesso vedremo, dal testo che leggeremo, che in questo brano di tutto si parla, tranne che di moltiplicazione. È vero, c'è un'operazione in questo brano, ma non è la moltiplicazione. Anche se noi purtroppo continuiamo a chiamarlo il brano della moltiplicazione dei pani. Però, come facciamo le altre volte, leggiamo il testo e poi cerchiamo di condividerlo insieme. Dopo questi fatti, Gesù passò all'alta riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicino alla Pasqua, alla festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva così per metterla alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa ricevergli un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro C'è qui un ragazzo che ha cinque panni d'orzo e dei pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente? Risposte Gesù Fatevi sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. Allora Gesù presi i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci quanto ne volevano. E quando furono saziati disse ai suoi discepoli Raccogliete pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Gli raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque panni d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che gli aveva compiuto, diceva Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte lui da solo. Fermiamoci qui. Voi sapete che l'Evangelista Giovanni non ha il racconto dell'ultima cena. Cos'è troviamo negli altri tre Vangeli? Dicono gli studiosi che è vero che non ha il racconto, però nel capitolo 6, che è un lungo capitolo, Giovanni spiega il significato dell'ultima cena. Cosa che non fanno gli altri evangelisti. Tenete presente che questo brano noi lo ascolteremo nel tempo estivo. Solo che purtroppo in estate le assemblee domenicali, diciamo, calano tantissime. E diciamo la verità, la riflessione anche che noi poniamo, cala pure quello, fa caldo. Quindi, lo sacerdote fa l'omiglia sopra, però noi pensiamo più un po' a soffiarci. Non so qui se fa caldo in chiesa o meno. Un po' a soffiarci, lo sacerdote fa velocemente in estate. Fa velocemente in estate, va bene. Però il fatto è che possa fare velocemente rispetto a quando durante l'inverno è più lungo, si prolunga un pochino in più, si corre il rischio di certe sfumature e non coglierle. Al di là della battuta. Però voglio dire che è uno dei capitoli veramente importanti, dove c'è una spiegazione. Vedete, voi lo sappiamo, no? Già il fatto che sia un capitolo lungo, poi a casa andatelo a vedere, vuol dire che qualcosa, tiene qualche cosa in più, sia un capitolo lungo. Noi l'equarestia l'abbiamo spiegato, l'abbiamo detto quando abbiamo parlato della liturgia, della messa, se vi ricordate. Quindi non ci ritorniamo sopra. Però basta dire semplicemente questo che, vedete, noi la teniamo al centro. L'equarestia fa la chiesa. Noi come chiesa esistiamo non perché stiamo facendo un incontro questa sera, ma perché ce l'abbiamo l'equarestia. Ciò che ci dà consistenza è proprio l'equarestia. E l'equarestia, non lo dimentichiamo, non è una reliquia. L'equarestia non è un pezzo, sapete, non le reliquie, ci può essere il pezzo dell'abito di padre Pio, che ne so, un pezzo di osso di Santa Rita. L'equarestia non è un pezzo di osso di Gesù, che noi diciamo il corpo di Cristo. L'equarestia è tutto il Cristo. Anzi, vi ricordate, ci insegnavano corpo, sangue, anima e divinità. Cioè lì c'è lui. Non per simbolo, ma veramente. L'equarestia è il sacramento del corpo di Cristo e la presenza. E quando Gesù quella sera disse, questo è il mio corpo, vi ricordate, l'abbiamo detto noi, come se Gesù avesse detto, questo sono io, è la mia persona questa. Dire il mio corpo significa dire la mia esistenza. Quindi tutto quello che ha preceduto quella istituzione, l'ultima cena, quindi tutto quello che lui ha fatto, diventa lì poi, in quel pezzetto di pane, una sorta di sintesi. Ecco perché l'equarestia è inesauribile, così come è inesauribile una persona. Ecco perché nell'equarestia, quando ci mettiamo davanti nell'adorazione e nella contemplazione, noi non finiremo mai di capirla. E' veramente per tutto quello che l'equarestia ci trasmette, ci dà. Noi non facciamo l'equarestia o la comunione per avere Gesù nel nostro cuore. Noi facciamo l'equarestia e la comunione proprio per quella sorta di vaso comunicante che diceva Don Ernesto prima, affinché la vita di Cristo diventi la nostra vita e noi siamo trasformati in Cristo. E essere trasformati in Cristo significa veramente poi a un certo punto prendere delle decisioni che sono particolari nella nostra vita e che noi da soli non facciamo. non riusciamo a farle. Perché vedete, come qui, quello che il Signore ci propone è sempre al di là di quello che noi possiamo minimamente immaginare. Attenzione a non correre questo rischio, di applicare a Dio la nostra mente. Di applicare a Dio i nostri limiti. Perché quando noi diciamo Dio perché non interviene, noi stiamo applicando a Dio un limite in quel momento. dove noi non riusciamo, pensiamo che neanche lì Dio riesca, perché noi non riusciamo. Io non sono capace e pensiamo che neanche Dio sia capace. E attenzione anche a un'altra cosa, perché qui il brano ce lo fa capire e Gesù stesso ce lo dice proprio nell'equalistia. L'equalistia non è la soluzione ai nostri problemi. Quasi che io dico, vabbè, c'è Gesù se la vede lui. L'equalistia è il luogo dove noi assumiamo la nostra responsabilità. L'equalistia mette davanti a noi la nostra responsabilità. L'equalistia dice profondamente vedi tu che cosa devi fare, non che cosa devo fare io. Perché noi su questo siamo bravi. Perché il Signore non interviene. Sapete il Signore cosa dice? Perché non interveni tu. Se mi stai seguendo e se hai visto, quasi come Gesù dicessi, io il mio l'ho fatto, tu il tuo quando lo fai? Nell'equalistia non entriamo in questa realtà, non entriamo in questo dinamismo. E veramente allora faremo cose grandi, come Gesù l'ha detto, farete cose ancora più grandi di me. Ma voi capite Gesù cosa ha detto? Noi faremo cose più grandi di lui. Ma ce lo chiediamo nella sincerità del nostro cuore. Ci crediamo veramente. Quando poi noi vediamo la nostra vita, lo diciamo, ma io non sono capace di fare niente. Proviamo per un attimo a pensare alla nostra responsabilità di genitori, di educatori. Se un ragazzo viene vicino a noi e dice, ma io non sono capace di fare niente. Noi che cosa diciamo? Hai ragione, non sai fare niente. Gli diciamo questo. E noi abbiamo distrutto quel ragazzo. L'abbiamo ucciso. Compito qual è dell'educatore? Esplonarlo. Qualcosa lo saprai fare? Allora cerchiamo di individuare che cosa tu sai fare. Potenziamo quello che sai fare. Focalizziamoci su questo. E Gesù questo lo chiede a noi. E c'è, se volete, c'è una cosa che noi dovremmo saper fare sulla quale il Signore ci chiede di focalizzarci sull'amore. E noi come credenti, come cristiani, dovremmo essere gli esperti dell'amore. Non ci riusciamo, non ci spaventiamo, lo chiediamo a Lui. Ecco perché poi si è fatto pane. Ma ripeto, proprio per diventare quella forza poi dentro di noi. Un'altra sottolineatura voglio fare, vedete, noi abbiamo detto il miracolo della moltiplicazione dei panni, però in questo brano la parola miracolo non compare proprio. Giovanni ha usato un'altra espressione, l'ha ripetuta varie volte. Segno. segno. Visto il segno, compiuto dei segni. C'è una differenza tra il segno e il miracolo. Sapete, il miracolo, quando noi appunto diciamo uh, è un miracolo, che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo di qualcosa di eccezionale, di sensazionale. È qualcosa che in fondo, in fondo, vedete che cosa fa? Riempie i nostri occhi. Noi stiamo meravigliati, per presto. Come è stato possibile? E il rischio del miracolo, il limite, sapete qual è? Che l'attenzione va a finire su quella cosa che è successa e finisce lì. La persona non camminava, adesso cammina. Che bello, il miracolo finisce lì. Il segno non finisce lì. Il segno parte anche dall'entusiasmo, dall'emozione, dalla cosa sensazionale, però poi non si ferma, va oltre. Cioè il segno ti dice, rimanda se noi vediamo il miracolo in sé per sé, non c'è il pane, adesso c'è il pane, c'è il pane, finito lì. Il segno invece dice, questo pane significa quattro cosa, infatti lui dopo lo dice. Capite perché alla fine a un certo punto lo vanno a cercare e Gesù se ne va. Perché in un certo qual modo, guardate, questo che sia un miracolo così grande, in un certo qual modo diventa anche un fallimento per Gesù. perché quando si segue Gesù perché compie dei miracoli solo fine a se stessi, Gesù è fallito nella sua missione. Vi ricordate quante volte nei Vangeli davanti a un miracolo Gesù dice non lo dite a nessuno, proprio perché può essere frainteso e noi continuiamo a fraintendere questa realtà del miracolo. Quante volte noi chiediamo il miracolo? che miracolo chiediamo? Sempre quello fisico. Vi ricordate noi l'abbiamo visto con il paralitico Marco a capitolo mi pare capitolo 2 o 2 o 3 quando glielo portano questo paralitico davanti i 4 che glielo calano dal tetto vi ricordate? E Gesù dice davanti al paralitico ti sono rimessi i peccati e noi lo dicemmo quanta amarezza fosse in quel paralitico quanta delusione ma come? Io sono paralitico e tu mi dici ti sono rimessi i peccati quando io richiederei che cosa? Fammi alzare in piedi capite molte volte come siamo su due piani diversi e nonostante che stiamo alla sua scuola da tanti anni continuiamo a stare su piani diversi proprio a seguito di questo brano del capitolo 6 a un certo punto Gesù farà un discorso molto forte proprio su questo fatto di importanza del pane dove voi continuate a non capire e a un certo punto Pietro gli dirà signore tu stai usando un linguaggio troppo duro sapete Gesù cosa dirà anche se a Pietro volete andare bene anche voi nessun oratore direbbe questo perché se tu hai delle persone che ti stanno a sentire diceva tienitele annobidisci il tuo discorso fai dei compromessi Gesù no davanti a questa realtà dell'incomprensione del significato del pane quando lui poi dirà io sono il pane vivo disceso dal cielo ecco il segno e se l'uomo lì non riesce a capire e noi con l'uomo con i discepoli non riusciamo a capire questo capite stiamo ancora al pane materiale quello che ci riempie è la pancia e ne avremo bisogno ancora domani di questo pane anche dopo domani di questo pane dopo questi fatti Gesù passò all'altra riva voi capite subito quali fatti ora noi dobbiamo essere bravi qui stiamo al capitolo 6 vuol dire che ci sono 5 capitoli prima quindi vuol dire che precedentemente Gesù ha fatto qualcosa dovremmo andare a vedere che cosa ha fatto per poter dire dopo questi fatti Gesù passò all'altra riva vi ricordate stiamo al nord della Palestina della Terra Santa quindi stiamo in Galilea Galilea nord Giudea giù sud Galilea Cafarnao dove Gesù ha svolto i primi anni del suo ministero attorno al lago il lago di Tiberiade che viene chiamato anche mare il mare vi ricordate l'abbiamo detto perché gli ebrei o meglio Gesù il mare non l'ha mai visto loro chiamano lago il lago di Tiberiade tiene un diametro di circa 53 km quindi è abbastanza grande quindi per loro è così grande che questa distesa d'acqua così che per loro è come se fosse un mare quindi ecco perché lo chiamano il mare però è il lago e Gesù vi ricordate passa spesso dalla parte di una riva all'altra attenzione passare da una riva all'altra è importante tenete presente che ha detto qui a un certo punto che era vicino alla Pasqua alla festa dei Giudei vi ricordate nella festa dei Giudei la Pasqua agli ebrei che cosa ricordavano il passaggio del Mar Rosso quindi la Pasqua è un passaggio è il passaggio da una riva a un'altra perché si apre il mare e loro passano attraverso il mare all'asciutto dice il testo dell'Esodo quindi c'è questa realtà di passare da una riva a un'altra di una Pasqua e quindi vuol dire che qui c'è una Pasqua che sta per essere celebrata capite? ecco perché Gesù Giovanni non ci rappresenta l'ultima cena però ci dice che cos'è l'ultima cena è la Pasqua quindi questo brano ci sta parlando della Pasqua è una celebrazione pasquale questo brano e gli apostoli in questa realtà sono pienamente inseriti in questa celebrazione pasquale quindi passo all'altro mare di Calivet di Tiberia e lo seguivo una gran folla perché vedeva i segni che compiva sugli infermi quindi capite la folla lo segue la folla segue Gesù perché vede però i segni che Gesù fa sugli infermi noi alcuni segni li abbiamo visti potremmo dire alcuni miracoli li abbiamo visti che Gesù ha fatto sugli infermi e quindi la gente è affascinata da questo Gesù proviamo a chiedercelo noi perché seguiamo Gesù la gente perché vede i segni che ha fatto sugli infermi non lo so voi avete visto qualche segno che Gesù ha fatto su qualche infermo avete visto io sinceramente qualche guarigione fisica non l'ho vista quindi non lo seguo per questo lo seguirò per altro ma non perché io ho visto fare un miracolo come segno esteriore però capite questa domanda dobbiamo farcela vi ricordate proprio nel Vangelo di Giovanni o anche quando Gesù chiama i primi nel Vangelo di Marco abbiamo visto che cercate perché mi seguite provate a pensare una scena che si vede in mezzo alla strada prima era ai tempi nostri era più usuale questa scena oggi un poco meno perché ci sono altri mezzi quando c'era una bella ragazza e il ragazzo gli andava gli andava dietro e lei si diceva ma che vuoi ti voglio conoscere è importante capire la motivazione perché mi vieni dietro per prenderti in giro e va bene allora agisco di conseguenza per conoscerti va bene se mi sta bene ci conosciamo la folla a cui lo segue ma noi perché lo stiamo seguendo perché dopo tanti anni della nostra vita noi stiamo ancora qui perché nonostante che tante volte sembra che lui ci deluda addirittura lo celebriamo come crocifisso anche come un perdente però perché stiamo ancora qui non lo so se Don Ernesto casomai vi ha promesso un biglietto alla lotteria oppure vi ha garantito una pensione non lo so allora ecco perché sto ci troverà può essere una motivazione perché noi stiamo qui perché questo Gesù mi fa star bene perché questo Gesù mi dà serenità perché così spero di andare in paradiso perché sta quella persona perché vado insieme ad un amico motivi sono tanti non c'è una risposta però dobbiamo farcela alla domanda perché questa è la domanda capite questo poi ci dà il senso e questo ci aiuta a superare le difficoltà e quando arriva la tempesta nel brano che dopo segue avete sul foglietto loro pensano di vedere un fantasma il fantasma non ha consistenza molte volte Gesù così potrebbe essere anche per noi non ha consistenza è un fantasma davanti alle tempeste non me l'aspettavo quindi la folla lo segue ci lasciamo provocare perché lo stiamo seguendo Gesù sta lì sul monte e là si possa sedere con i suoi discepoli era vicino alla Pasqua alla festa dei Giudei pensate il monte l'abbiamo detto il monte è il posto della terra che più si avvicina al cielo e quindi è il posto dove più ti avvicini a Dio il monte geografico però pensiamo anche al monte esistenziale pensiamo anche al monte del cuore dove saliamo siamo invitati a salire vi ricordate Gesù nel Cenacolo ha quell'espressione bella la sala al piano superiore vedete l'altare perlomeno sta su tre gradini e vedete dal piano della strada comunque noi un gradino lo facciamo per salire in chiesa quindi è un po' elevata la chiesa l'altare dove entriamo a dire che cosa che ci eleviamo un poco da terra entriamo in una realtà diversa nuova dove il cielo abita entriamo un poco con la testa tra le nuvole ma non per essere smemorati per prendere più consapevolezza più coscienza allora Gesù alzati gli occhi vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo vi ricordate noi l'abbiamo detto tante volte Gesù come guarda dice il testo Gesù alzati gli occhi vede la gente la vede non la vede come una massa amorfa la vede quasi come se in quella folla vedesse ognuno perché poi dice hanno fame e quindi è come se vedesse bisogno di ognuno però vedete per guardare bisogna fare una cosa bisogna alzare gli occhi l'opposto degli occhi alzati sono gli occhi abbassati sapete che significa avere gli occhi abbassati guardare se stessi e se avrò gli occhi abbassati guarderò me stesso non vedrò gli altri e se io ho gli occhi abbassati e guardo me stesso penso che il mondo finisca a me io sono il mondo i miei bisogni le mie necessità e quindi non vedrò gli altri Gesù guarda alza lo sguardo non è chiuso in se stesso proviamo a chiederci non è che molte volte la fonte dei nostri guai è perché noi troppo ci chiudiamo noi stessi non è che tante difficoltà tanti problemi noi si creano avvengono perché noi guardiamo dentro di noi sì è vero perché noi potremmo dire c'è il problema e quindi il problema mi porta a chiudere un momento perché poi diventa un cane che si muove la coda dirà San Paolo abbiamo ascoltato il giorno di Pasqua nella lettera ai Colossesi se siete risulti con Cristo cercate le cose di lassù e quindi capite cambia la prospettiva dello sguardo le cose di lassù significa che stai così tu guardi le cose di lassù però non perché tu debba distrarti dalle cose della terra perché noi siamo esseri incarnati non siamo degli angeli ma guardare le cose di lassù perché questa è la vocazione nostra le cose di lassù però quelle cose di lassù non sono da venire le cose di lassù sono già adesso il profeta è colui che vede la realtà nuova e la vede e la rende presente non è che la vede e dice ma poi arriverà la rende presente proprio perché lui la vede la rende presente anche qui permettete ad esempio una persona che ama che vede la persona amata l'amore lo rende presente non è che poi se ne parla la realtà che va vissuta è l'oggi non il domani però per fare questo bisogna vedere e Gesù vede potremmo anche chiederci noi come vediamo come guardiamo già l'abbiamo detto vi ricordate proprio confrontandoci con Gesù Simone il fariseo vede la peccatrice Gesù vede con lei che ha peccato però che poi ha molto amato gli altri vedono Zaccheo il pubblicano il peccatore Gesù vede colui che oggi è entrato nella tua casa la salvezza noi vediamo gli sbagli Gesù vede la potenzialità di vita noi vediamo il limite Gesù invece vede la potenzialità che c'è nel cuore dell'uomo noi vediamo l'etichetta che abbiamo messo sulle cose Gesù vede la creazione questa è la Pasqua Pasqua non è un rito questa è la Pasqua questo sguardo nuovo perché è vita nuova qualcosa di impensabile che diventa fattibile ma non perché lo produciamo noi uomini perché lo produce Dio che è l'impensabile per eccellenza ricordate con Maria nel dialogo nulla è impossibile a Dio vede una gran folla che lo seguiva e disse a Filippo dove potremmo comprare il pane perché costora abbiano da mangiare è strano Gesù se ne accorge Filippo non se ne accorge Gesù è aperto Filippo no vedete c'è una tentazione credo che capita un poco a tutti questo quando si costituisce un gruppo fateci caso quando c'è un gruppo per sua natura il gruppo a un certo punto tende a chiudersi in se stesso che bello siamo in un gruppo così stiamo bene insieme siamo affiatati c'è avuto un po' di tempo però siamo riusciti poi a creare accordo tra di noi poi arriva qualcuno all'improvviso ah ma questo che vuole ma questo viene a rompere l'armonia del nostro gruppo probabilmente Filippo l'ha pensato questo perché dimenticavo di dirlo la moltiplicazione dei pani è l'unico miracolo che abbiamo in tutti e quattro Vangeli anzi addirittura in altri due viene ripetuto due volte quindi sei volte lo teniamo questo racconto nell'altro passo del Vangelo Filippo dice signore congedali mandali via perché loro vadano a comprarsi da mangiare capite che dice Filippo signore mica sono problemi nostri la fame degli altri non è un problema nostro cioè io ci tengo la fame mia ma ci preoccupo la fame degli altri vedete lo sguardo io senza se stessi ho già i miei problemi adesso devo provare anche i problemi degli altri un momento prima provi dei miei problemi poi li mi devo provi dei miei problemi degli altri c'è una bella preghiera di Madreste di Caculta dove a un certo punto dice signore quando vorrei essere consolato mandami qualcuno da consolare quando vorrei essere aiutata mandami qualcuno da aiutare quando vorrei essere capita mandami qualcuno da capire Filippo non se ne accorge però Gesù gli dice mettono alla prova guardate su questo facciamo attenzione quando si tratta di aprire gli occhi sui fratelli Gesù non ci lascia guieti noi possiamo non sentirlo possiamo non lasciarci provocare ma Gesù ci provoca disse questo per mettere la prova quindi Gesù è uno che prova sì Gesù ci mette la prova da capire però che tipo di prova e vi ricordate noi l'abbiamo detto quando in Matteo 25 Gesù dice ho avuto fame mi hai dato da mangiare ho avuto sete mi hai dato da bere ero forestiero mi hai ospitato vedete Gesù lui ce lo sta dicendo su che cosa lui ci giudicherà una volta ho letto un post sapete su internet dove dice così le mani che aiutano sono più sante delle mani che pregano io ti ho detto le due cose possono stare insieme perché le mani vere che pregano sono quelle mani che automaticamente ti rimandano a chi stai pregando ti rimanda a usare quelle mani giunte ad aprirsi per gli altri se stai veramente pregando se le mani che tu metti giunte non si aprono verso gli altri non hai pregato hai pregato solo te stesso non hai pregato Dio perché Dio non ha bisogno della nostra lode lo dice un prefazio i nostri inidimensioni non accrescono la tua grandezza allora il Signore qui ci mette la prova e qui mette la prova Filippo Filippo che non si è reso conto allora Gesù gli dice apri gli occhi guarda guarda anche tu e gli dice devo stare qui mettiti affianco a me perché se io da qua guardo può darsi che se ti metti di qua vedrai anche tu allora forse dovrei un po' cambiare posizione dovrei forse cambiare un po' la prospettiva dice ma come faccio a mettermi nella prospettiva di Cristo perché lo stiamo conoscendo allora capite se andiamo via dalla celebrazione dall'incontro ha fatto un bel incontro che bel incontro mi ha fatto stasera ha messo che possa essere un bel incontro però poi finisce così vi ricordate quando facciamo quell'esempio ammettiamo che adesso Gesù deve andare a mezzanotte che cosa facciamo noi fino a mezzanotte vi dissi vi ricordate facciamo non un proposito ma prendiamo una decisione perché di proposito noi facciamo tantissimi propositi dobbiamo iniziare a prendere decisioni una ma la devo fare una volta ho deciso ma la devo fare che decisione allora per mettermi a fianco a Cristo da dove sta Lui per poter guardare il mondo come lo guarda Lui che cosa mi impedisce di guardare gli occhiali e devo cambiare gli occhiali mi devo cambiare gli occhiali se sono gli occhiali che non mi fanno vedere come guarda Lui che cosa mi ostacolo il fatto che sto ancora litigato con quella persona devo andare a far pace con quella persona se questo diventa un ostacolo devo andare a far pace altrimenti è inutile la decisione è questa allora inizio a pregarci sopra Signore questa è la decisione aiutami dammi la forza fammi capire come devo fare per riconciliarmi con quella persona se questo è ciò che impedisce al mio cuore di guardare come guardi tu e di rendermi conto del bisogno degli altri e Filippo gli risponde 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo vi ricordate quando parliamo della della donna peccatrice con il vasetto di oro di alabastro vi ricordate che dice Giuda che aveva il polso della situazione perché questo spreco 300 denari e il denaro era la paga giornaliera quindi 200 denari 200 giornate di lavoro 7 mesi circa di lavoro allora attenzione perché Filippo è vero sì che era chiuso in se stesso però a un certo punto il conto se l'è fatto subito dice pure il Signore se lavoriamo per 7 mesi c'è lo stipendio di 7 mesi non sarà sufficiente neanche perché uno possa avere un pezzettino allora capite dove sta la prova che Gesù la sfida se volete qui qual è? perché pure noi quante volte no vabbè ma questo poi che cos'è davanti a davanti a le difficoltà davanti ai problemi del mondo quelli grandi che cos'è quello che noi possiamo dare non è niente allora vedete quello che Gesù vuole proporre a Filippo però Filippo non se ne accorge neanche noi se ne accorgiamo che lui ci chiede qualcosa che supera la tua possibilità perché la soluzione non viene da Filippo la soluzione viene da qualcuno che noi non immagineremo proprio gli disse allora uno dei suoi discepoli Andrea fratello di Simon Pietro c'è qui un ragazzo che ha cinque panni d'orzo e dei pesci ma che cos'è questo per tanta gente e qui Andrea sembra quasi che sta facendo veramente un atto grande e poi però si dire indietro c'è qui ma che cos'è questo per tanta gente ma che cos'è questo per tanta gente Andrea ha detto questo perché ha visto questo ragazzo che tiene cinque panni perché forse questo ragazzo avrà detto io ho cinque panni e due pesci noi forse dovremmo ritornare ad essere un po' con bambini per capire questo passaggio qui avete mai visto i bambini se all'improvviso vengono a sapere che papà o mamma hanno una difficoltà economica e se il bambino tiene il salvadanaio con poche monetine dentro sapete che fa? lo va a prendere e dice papà tieni in questo salvadanaio non ci saranno siano pochi centesimi qualche euro non risolverai il problema però per il bambino quel salvadanaio nella sua mente potrà risolvere i problemi dei genitori capite? nelle mani nelle mani del genitore il bambino pensa che quello che lui ha nelle sue mani del genitore possa risolvere il problema il problema è quello che noi abbiamo è nelle mani di chi sta quei cinque panni e due pesci nelle mani di chi sta vedete noi siamo un'espressione qualche volta dice ah quello è andato da quel dottore si è messo in buone mani che significa che quel dottore che tiene quella fama ma lì il problema lo risolverà allora qui è il punto di vista è nelle mani del bambino nelle mani di Andrea nelle mani di Filippo non succederà niente ma nelle mani di Gesù succederà qualcosa è un'altra cosa voglio farvi notare perché questo bambino tiene cinque panni con sé e due pesci cinque panni d'orzo perché sapete il pane d'orzo era il pane dei poveri quindi non era neanche il pane dei ricchi era il pane dei poveri e solo sto bambino lo tiene gli altri i grandi non hanno niente perché è detto cinquemila uomini dopo e nel conteggio si contavano solo gli uomini gli adulti non le donne e non i bambini e quindi nessun adulto aveva pensato a portarsi cose da mangiare appresso evidentemente la mamma di questo bambino quando è uscito gli avrebbe detto porta la merenda appresso quindi era la merenda di questo ragazzo però vedete questo ragazzo ha questo gesto di che cosa che cosa fa perciò ho detto il ragazzo si priva quindi se volete qui c'è un'operazione sapete qual è la sottrazione lui sottrae qualcosa che era per sé avrebbe potuto anche dire te ne do quattro e uno me lo tengo per me da tutto misuriamoci con questo misuriamoci che cosa sono io per tanta gente che cos'è il mio credere per tanta gente cosa è quel poco d'amore che io potrei dare per tanta gente perché se facciamo la proporzione siccome diciamo è poco allora che facciamo non diamo niente dice vabbè è poco qualche volta aggiungiamo non faccio niente né io né lui e quindi a questo punto ma che cosa è questo per tanta gente e Gesù qui non risponde la domanda resta così sospesa no che cosa è questo per tanta gente rispose Gesù fateli sedere vi ricordate l'abbiamo ascoltato il giovedì santo esodo 12 quando stanno celebrando la Pasqua vi ricordate quando Mosè dà le indicazioni tramite il Signore come dice che devono mangiare la Pasqua celebrete l'agnello poi dice celebrerete con i fianchi cinti il bastone in mano i sandri ai piedi seduti o in piedi no in piedi la celebrerete in fretta perché dovevano scappare qui Gesù che cosa dice fateli sapete chi è che si sedeva i nobili perché i servi che facevano dovevano servire quindi se il servo doveva servire il nobile doveva sedersi siccome questa gente gli va dietro non erano certamente nobili oppure c'era anche qualche nobile ed erano poveri perché non hanno niente appresso Gesù che cosa dice fatevi sedere come si fa sedere ai nobili la gente per il Signore ha la sua dignità e c'è qualcuno che servirà queste persone che sono povere c'è un bellissimo passo nell'Apocalisse dove dice verrò io e li servirò passerà a tavola per servirli io non so se vedete questa è la conversione questo Signore che noi tanto sogniamo pensiamo glorioso così che passa a tavola a servire fatevi sedere c'era molta erbe in quel luogo se vi ricordate il Salmo 23 il Signore è il mio pastore ad erbe verde e gialli mi guida a riposare i pascoli libertosi dove il Signore conduce il suo pascolo si è realizzato la Pasqua è questa ricordate il paradiso il giardino ecco qui allora prese i pani e dopo aver reso grazie li diede a quelli che erano seduti e lo stesso fece dei pesci quanto ne volevano prese i pani dopo aver reso grazie li diede non c'è niente di familiare nei vostri orecchi che vi ritorna prese il pane lo spezzò lo diede e dice l'Eucaristia però attenzione che c'è un'altra scena prima c'è un altro momento prima che fa rese grazie termine greco è Eucaristia rende grazie Eucaristia significa rendere grazie perché dicevo non è un miracolo perché qui Gesù non fa comparire nulla Gesù lavora su qualcosa che è già esistente Gesù lavora può intervenire può compiere può fare quello che fa perché ci sono cinque panni e due pesci o meglio perché c'è qualcuno che ha messo a disposizione ciò che lui possedeva quando è bravo Gesù a fare così Gesù vuole fare così si è disposto c'è qualche ragazzo in mezzo a noi disposto a dare i suoi cinque panni e due pesci c'è qualcuno in mezzo a noi che è veramente disposto a perdere tutto e paziente se li ho persi li ho persi questi panni e per un giorno se non mangio non è la fine del mondo ma sono disposto per un giorno a non mangiare e a vedere se qualcosa succede o non succede Gesù rende grazie il rendere grazie vedete quando è che rendi grazie quando è che dici grazie quando ricevi un regalo quando è che non dici grazie quando il regalo non lo ricevi ma quello che ti viene dato lo pretendi ti è dovuto quando una cosa ti è dovuta tu non devi ringraziare mi è dovuto perché dovrei ringraziare scusa se mi spetta perché ti devo dirti grazie ma se invece non mi è dovuto è qualcosa che ecceleva al di là di quello che io qui dico grazie capite qui che cos'è cioè questo è il pane che è dono il pane è un dono per cui rendiamo grazie ecco dove c'è la trasformazione dove viene tolto dall'uso comune e viene trasformato in qualcosa di grande grazie chi è che partecipa all'equalistia chi sente il bisogno di ringraziare chi riconosce che ciò che ha vissuto in una settimana ha ricevuto dei doni non ha ricevuto che le cose vanno bene non ha avuto difficoltà non ha avuto problemi no non è questo lo sapete ma chi percepisce l'ha ricevuto qualche dono per cui va a ringraziare e qui c'è e qui c'è l'altra operazione se volete perché dice prese i pani quindi li prende questi pani quindi passano nelle sue mani questi pani dalle mani del ragazzo nelle sue mani prese i pani rese grazie li diede a quelli che erano seduti ecco li diede come si è avvenuta questo segno io sinceramente non lo so se all'improvviso sono comparsi questi pani se mentre da uno passava a un altro io questo non saprei sinceramente dirvi ho cercato anche di leggere però nessuna parte ho trovato una spiegazione che potesse essere convincente una cosa è certa che questi pani sono passati nelle mani di tutti per arrivare all'ultimo di questa fine io non so se già ve l'ho raccontato io a questo miracolo tra virgoletti ho assistito una volta alla moltiplicazione della frutta frutta quando stiamo in seminario andiamo dopo il periodo pasquale andiamo a fare erano cinque giorni così un'altra casa di comunità Melfi e quando arriviamo lì superiore dimenticò di comprare la frutta stavamo a cena e mi ricordo che c'era il cestino della frutta eravamo 18 c'erano solo tre frutti adesso non ricordo il tipo di frutta qual era lo superiore che si è secondo che si pagasse la frutta tutti quanti però avevamo visto che c'era sofferenza di impararsi quando prendiamo la frutta con molta vedete semplicità il superiore inizio e passò il cestino a quello che stava a fianco il cestino passò manotto 18 però nessuno si prese la frutta perché tutti quanti pensavamo vabbè la lascio all'altro arrivo il cestino superiore con i tre pezzi di frutta dentro tutti quanti però abbiamo mangiato la frutta perché nessuno se l'è mangiata io ricordo quando ero bambino quindi l'anno scorso i miei genitori avevano il bar e papà tornava tardi chiudeva il bar e poi veniva sopra tardi e quindi verso le 10 quindi già poi avevo cenato però mi ricordo che avevo fame allora e pure oggi ho fame e mi ricordo che quando poi arrivavo mi mettevo vicino a lui ero l'ultimo in famiglia quindi era il cocco di papà non di mamma ma di papà e mi ricordo che quando lui così mi dava il boccone comunque faceva mangiare mia mamma diceva ma la fallo mangiare no però papà diceva ma stai zitti cina mia mamma cioè mio padre era contento di privarsi lui di un pezzo di qualcosa affinché lo mangiassi io chi genitore non fa così davanti al figlio chi genitore che ama non si priva lui del boccone per darlo al figlio allora capite alla fine che cos'è se amo o non amo cioè l'altro che Filippo non è stato capace di vedere è proprio questo vai cominciare di ragazzo però privandosi allora questo significa che in certe situazioni mi devo privare e allora capite che a questo punto privare non è avere meno vita ma privare è avere più vita cioè in questa privazione c'è vita ma scusate una mamma una donna nel partorire non si priva lei la donna per avere il figlio nel grembo deve fare spazio quindi si priva di spazio nel matrimonio per raccogliere lo sposo lei o lui si devono privare di qualcosa per poter raccogliere l'altro se io devo mettere un mobile a casa mia ci fa spazio se io metto il mobile non potrei entrare a casa mia e questo avviene qui prese prese grazie ecco perché noi a pranzo facciamo la preghiera perché riconosciamo che è vero che quel pane lì è il frutto nostro noi durante la messa lo diciamo benedetto sei tu signore di un universo dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane frutto della terra e del lavoro dell'uomo frutto tuo dono ma anche del nostro lavoro noi ringraziamo il pane che mangiamo sulla mensa a tavola a pranzo perché lo percepiamo come dono di Dio e anche come nostro lavoro e lo diede va bene necessariamente mi fermo qui su questo dare interroghiamoci su questo veramente in questi giorni così con il foglio che ci portiamo a casa vedete le altre volte non vi ho dato il foglio è stato il foglio a casa però vi chiedo questa professione a casa postate il foglio e prendete il Vangelo andate a trovare sul Vangelo Giovanni a capitolo 6 andate a vedere lì questi passaggi se c'è qualcosa che vi suona nel cuore se c'è qualcosa che lo cogliete come limite se c'è qualcosa che vi allarga il cuore se c'è qualcosa che vi spaventa se avvertiamo in questo momento di poter dire quando è stato generoso sto ragazzo magari potesse essere anche io così generoso che cosa mi impedisce di essere che paura non mi fa essere generoso è soprattutto poi questa realtà di questo passaggio di mani dalle mie mani alle mani sue quelle mani che sto nelle mani buone e che compie questa realtà che io non potrei mai immaginare ma che addirittura dice dopo 12 canestre ne avanzarono 12 un numero particolare ci ritorneremo sopra poi la prossima prossimo incontro vi chiedo di portare o il Vangelo oppure poi il foglietto un numero particolare che ci ritorneremo che ci ritorneremo che ci ritorneremo Grazie a tutti